Sburocratizzare le procedure è questa la richiesta. Il sottosegretario Vacca dei 5 Stelle a Bruzzese, sottosegretario al Ministero per i beni e le attività culturali, sembra avere le idee chiare sul lavoro che c'è da fare all'Aquila. Accolto davanti alla Basilica di San Bernardino dal Sindaco Biondi e dal Prefetto Linardi, la sua mattinata è proseguita con incontri istituzionali con la Sovrintendenza, con il Segretario regionale ai beni culturali e con la direttrice del Polo Museale. Allora, noi siamo qui innanzitutto per testimoniare la vicinanza ovviamente del Ministero e del Governo all'Aquila, ai comuni colpiti dal terremoto del 2009, così come due giorni fa il Ministro si è recato nei comuni colpiti dagli ultimi terremoti, quelli del 2006 e del 2017, proprio per testimoniare questa vicinanza e anche per verificare lo stato dei lavori e per vedere cosa c'è da fare per velocizzare e per chiudere la fase della ricostruzione. È arrivato il momento di iniziare a programmare la chiusura della ricostruzione per avviare una nuova pagina per questi territori, quindi sono qui per questo. Bisogna ovviamente portare avanti i lavori che sono stati fatti. C'è in queste ore in discussione il decreto terremoto, ad esempio, e si chiuderà proprio questa mattina la discussione al Senato. È un decreto che è nato non dal nostro Governo, ma che viene dal Governo precedente, ma che noi con grande senso di responsabilità abbiamo voluto modificare per dare già delle risposte ai territori. Penso alla partita, per esempio, delle chiese. Ci saranno delle novità questa mattina sulla ricostruzione delle chiese. Tutta la partita, ovviamente, anche delle modifiche della ricostruzione privata, bloccata alcune volte per delle modifiche che sono state fatte nell'interno degli immobili. Anche lì daremo delle risposte proprio questa mattina. Quindi c'è tanto da fare, noi siamo qui per lavorare e per programmare la chiusura e la ricostruzione. Ma non solo. Il sottosegretario ha visitato anche dei cantieri completati, alcuni in corso di completamento. La Basilica di San Bernardino, riaperta il 2 maggio del 2015. Palazzo Ardinghelli, che presto di verra sede del Maxi, e che si sta completando ancora. La Chiesa Teatro di San Filippo in via di completamento. La Chiesa delle Anime Sante in piazza, anche questa quasi finita. Rimane il problema grande del personale. Si potrebbero accelerare molto le procedure con più personale. Gianluca Vacca dice di sapere e dice che anche su questo si sta lavorando. Lo sappiamo. Questa è una problematica comune a tutti gli uffici del Ministero, anche all'interno del Ministero. Stiamo programmando, insieme ovviamente al Ministro, già ne abbiamo discusso, e stiamo mettendo su un tavolo di lavoro per verificare le esigenze, per programmare un piano di assunzioni per rispondere appunto a questa carenza di personale che si aggreverà oltretutto nei prossimi tempi con i pensionamenti che sono previsti. Io ho accolto molto favorevolmente l'invito del Sindaco e poi è coinciso anche con la mia volontà perché io ho già pensato di fare la prima visita proprio qui all'Aquila per testimoniare questa vicinanza. L'Aquila è un luogo identitario molto importante per il nostro Abruzzo, per tutto il paese ma in particolare per l'Abruzzo. Quindi ripartire dall'identità culturale dell'Aquila vuol dire ripartire dall'identità culturale in tutta la regione. Quindi ci teniamo particolarmente a svolgere questa prima visita istituzionale qua all'Aquila.